Miele, arachidi e tarme della farina, dentro le zucche di Halloween, per Luis e Baia, i due orsi andini che vivono al Parco Natura Viva di Bussolengo. Entrambi sono ormai anziani, ma i loro 24 anni non gli impediscono affatto di svolgere tutte le attività tipiche degli orsi, arrampicarsi sui tronchi e, come in questo caso, andare in cerca di leccornie. Vulnerabili di estensione in Sud America, il loro habitat è flagellato dalla deforestazione e dalla caccia illegale. Grazie a tutti.